Comunque, TG Mario! Non eri dimenticato, imbecile! TG Mario... Comunque, Luigi, è successo un incidente... Eeeh, cosa? E' quello l'incidente, mamma mia! Scusa, sono troppo fifone, credevo che mi avranno buttato sotto e ero in un ospedale. Comunque... Ciao! Ciao! E al prossimo telegiornale! No, aspetta, aspetta, aspetta! Dovevi continuare! Il voto della serie! Ah, facciamo qualche storico sui slender! No! Ma no, slender in senso gioco! Va bene, gioco! Eeeh, capite, faremo poi serie horror sui giochi! Pokémon! E ti toglie, l'ho detto già prima! Che...